Antonello Taurino, anni e anni di presenza stabile in prima serata televisiva, eppure sembra che nessuno lo riconosca. Testiamo questa cosa, chiediamo ai milanesi. Lo riconoscete? No, è un cantante austriaco. Secondo lei è un cantante austriaco? Come si? Come si? Come si? Non so, prima serata, canale 5, taglia 1. Sì, Mediaset mi dice qualcosa. Ma lui? No, lui no, lui no, lui no. Ce l'ho visto già a che parte però... Dico che si chiama Antonello Taurino. Non mi dice niente. Un attore, un telecamerista, non lo so. Ah, sì. Chi è? Ah, voi siete quelli che fanno gli... per trovare le persone impreparate nel campo della moda. Su Antonello Taurino sono impreparata, mi dispiace. Boo? Non lo so. No, mai visto. Attore? Non lo so. Non lo so. Casino attorporno. Model? Attorporno! Attorporno! Se vi faccio vedere questa foto, lo riconoscete? No, non mi dice nulla. Mi ricorda qualcuno, ma... Se non è uomini e donne, un altro programma della De Filippi... Mi sembra... Andà dalla faccia può fare solo quei programmi. Mi sono convinto anche. Grazie. Grazie. Grazie.